Ciao! Come va? Comincio il video con un tapping random su questo tubetto di crema, perché ultimamente sto impazzendo per il tapping, non so neanche perché, ma non soltanto a livello di video ASMR, ma proprio che io durante la giornata a un certo punto comincio a tamburellare così sugli oggetti, prima dopo cena sono stata tipo 10 minuti a fare il tapping sul bicchiere, così, oppure mentre studio faccio il tapping sulle penne, sono impazzita. E quindi mi è venuta voglia di fare un video che comprendesse del tapping e dei suoni, e sto registrando con l'iPhone, quindi la qualità dell'audio o video sarà quella che sarà. Però sapete che a me piacciono gli ASMR molto caserecci? Tra l'altro questa crema ve la consiglio, tra parentesi, la crema Allargan per le mani di Bottega Verde. Vi chiedo scusa per la faccia, ho un po' di brufolini e poi sono struccata, però sono lavata, perché oggi sono stata in palestra e quindi chiaramente dopo la doccia, ma mi sono struccata, sono anche col pigiamino. Comunque, ho pensato di proporvi uno show and tell, quindi in realtà non c'entra niente questa candela, ho tantissimo tempo che non faccio uno show and tell e voglio rimediare, perché io adoro gli show and tell, li guardo in tutte le lingue. Ho pensato di farvi vedere alcune delle mie collane, non sono tutte, ma ho scelto quelle un pochino più particolari e che tra l'altro ultimamente non sto indossando più, perché mi è un po' passata la vista per le collane importanti, ma penso che mi tornerà, perché mi sta venendo la voglia di riusarle. E nulla, quindi vi faccio vedere quelle più particolari, che secondo me potrebbero fare dei suoni interessanti, spero di essere in grado. E quindi cominciamo subito, leviamo la crema e niente, vi chiedo scusa in anticipo se sarò un po' partita, ma sono stanca e quindi potrei dire delle cose un po' sconnesse. Comunque mi piacerebbe fare un video motivazionale, con il carezzare il viso, perché il mio trigger preferito è l'hand movement. Quindi, io non so voi, ma ogni volta che qualcuno fa un video in cui agcarezzano così, io ho dei tingles improponibili, impazzisco. Quindi, vorrei farlo anche in inglese, tra l'altro. Comunque, bando alle ciance, cominciamo con le collanine, perché sono abbastanza e non voglio fare il video troppo lungo. La prima che vi faccio vedere è questa, che tra l'altro ho ancora il cartellino, è una collana fatta in Uganda, me l'ha portata mia zia perché lei vive in Uganda. E quindi c'è il cartellino, c'è scritto Recycled Paper Beats Necklace. Questo voi non vedete perché è fuori fuoco. Comunque, è una collana fatta appunto di paper beads. Quindi, sono fatte di carta le cose, le berline. Vi leggo cosa dice il cartellino. This necklace is made out of recycled paper beads, created from old calendars, cornflake packets and magazines. The paper is cut into a triangle and rolled from the end of the triangle to the tip, then glued to keep it in place, varnished and strung. These necklaces are made by women from the Agoli and Lanji tribes of northern Uganda, who left their homes due to the LRA rebels. Making these necklaces is the only form of cash income that these women depend upon. Quindi, insomma, grandi messaggi. Guardate che bella che è. Questa mi piace tantissimo, è veramente molto particolare. E non fa un grandissimo suono questa perché è in stoffa per la maggior parte. Ma volevo mostrarvela in ogni caso. La prossima invece fa un po' rumore ed è questa qua. Secondo me questo suona bellissimo. Anche quando ero piccola mi faceva molto ASMR questa collanina con tutti i capelli attaccati, tra l'altro che chic. Con tutti questi cornini fa un suono che sa un po' di quando muovete, sapete quelle perline o quelle sabbiette che si mettono di solito nei vasi? O per decorazione, oppure tipo noi li usiamo per mettere i pennelli, no? Se è un po' di quel, oppure il burburrisa di muovere quel materiale là, insomma. È bellissima secondo me. Poi anche questa è rossa. Io adoro gli accessori rossi. Il rosso è un colore che mi piace molto da quando ho fatto i capelli. Che adesso, vabbè, non lo sono più, però prima erano rosa-rosa e non potevo indossare il rosso. Invece adesso potrei anche, anche se comunque non mi piace troppo come ci sta. Però questa collana è meravigliosa e fa un rumore bellissimo. E io, oh, sembra che sia piena di graffi. Sono i gatti, in caso, nessuno mi sta picchiando, lo giuro. Poi, anche quella di adesso fa rumore. Guardate quanto è bella questa qua. Questa è di legno, interamente in legno. Anche in legno è un rumore che mi piace molto, questa anche fa un rumore bellissimo, secondo me. Che bello. Questa è bella perché è tutta colorata, quindi va da, insomma, un sacco di luce ad ogni outfit. La trovo veramente bellissima. Mamma mia, che brutto, non me ne ero per niente accorta di questi graffi. Da mi gatti. Questa, e questa la terrei in mano per tutta la sera. È bellissimo. Fatti, anche questa, quando la indossavo, mi mettevo lì da piccola. C'è da piccola, insomma. Ok, però c'è qualche anno. Poi, questa è nuovissima. E viene sempre da Lucanta, però questa è più particolare. È fatta con le conchiglie. Guardate quanto è meravigliosa. Questa, tra l'altro, sta benissimo, invece, con il mio colore di capelli. Ok. Questa è meravigliosamente lavorata con tutte queste conchiglie. Fa un suono meraviglioso. Io, purtroppo, non ho un microfono a cui avvicinarla. Spero che sentiate. La trovo bellissima. E questa è davvero, davvero elegante. Secondo me. Questa, vorrei indossarla uno di questi giorni. La trovo stupenda. Bella. Vi piace? Poi, una collana che ho voluto, che in realtà c'è che è una collana, è un accessorio che ho voluto per tantissimo tempo. L'ho ricevuto da un'azienda e non l'ho mai indossato. E questo è un colletto interamente fatto di perline brillantinate, di strass, praticamente. E questo è bellissimo, perché si mette tipo sulle maglie, sulle cose, e fa effetto colletto. Io tolto il telefono a scarico. E fa effetto colletto, dicevo. Ma non l'ho mai indossata, perché non è facile trovare delle magliette a cui abbinarle, una cosa del genere. Però vorrei tanto metterla, perché secondo me è bellissima. All'interno è fatta tipo di vellutino. Si mette più velcro, in realtà. Però viene da un sito cinese e davanti... Si possono più scracciare. Che fare il tapping a queste collane. La trovo veramente bellissima. È un qualcosa di veramente super chic, secondo me. Poi, una volta chiusa, viene tipo così. Ecco, magari non sul pigiama, però carina. Poi, veniamo alle collane dorate. Questa. Questa è una catena. C'è stato un periodo... Questa anche ha un paio di anni. C'è stato un periodo in cui io mettevo solo questa collana. È leggerissima, si sente anche dal rumore che fa. È proprio plastica vuota. Ma c'è stato un periodo in cui veramente la mettevo tutti i giorni. Infatti è un bel po' squalcita. Poi anche questa ovviamente non è oro, vero? Ma c'è stato un periodo in cui veramente la utilizzavo tutti i giorni. Con qualunque outfit, perché è una collanina veramente... Poi questa non sta neanche troppo collata. Sta bene con tutto. C'è un momento in cui ho avuto un momento catena. Anche questa fa un suono bello. Però è un po' schifosetta. Dovrei dotarmi di una collanina simile, ma di qualità superiore. Poi ce n'è un'altra che non ho mai indossato. Che invece è un po' più pesante. Anche questa è sempre finto oro, ovviamente. Ma questa è più pesante, più metallica. Che è questa. Questa è un po' da pappone. È un po' trash. È un po' kitsch. Quindi non l'ho mai indossata. Non so neanche perché l'abbia presa, in realtà. Questa forse viene da H&M. Ma è proprio trash. C'è una collana da un po' da pappone. Non lo so. Voi che dite? Devo capire. Intanto è lì a marcire nell'armadio da due anni. Voi preferite il tapping lento o il tapping rapido? Io per alcune cose il tapping rapido mi uccide. Perché qua, come se facessi il tapping troppo lento, secondo me, sarebbe quasi noioso. Fa un casino questo. Poi ce ne sono due. Le sono identiche, ma di due colori diversi. Queste secondo me non fanno un grandissimo suono, però sono carine e volevo mostrarvele. Queste qui sono di Mickey Rondon, le ho pese da OVS un po' di tempo fa. Questa è grigia e ha queste cose che sembrano dei bambini appesi e quindi è un po' inquietante. Però secondo me, cioè, sono angioletti, in realtà. Carina, con tutte queste perline grigia o quaca. Questa è davvero fine. Mi piacciono molto queste cose. Però è tantissimo tempo che io non utilizzo più queste collane. Questa non fa un grandissimo suono perché appunto è molto sottile. Però volevo mostrarvela. E questa ce l'ho identica. Però. Rosa. Questa è davvero carinissima. Secondo me rosa antico, insomma, abbastanza leggera, abbastanza neutro come rosa. Non è troppo acceso. Questa sta benissimo se vi vestite di bianco. Da quel tocco super bonton, l'outfit. Guardate che carina. Molto, molto, molto carina. Sono costate pochissimo queste collane. Sempre di Michi London e ho una che mi fa impazzire. Che è questa. Questa, secondo me, è meravigliosa. Si vede un po', macchina, si vede un po' che è picciotteria. Ma, secondo me, questa è più bella. Ha questi fiori sul davanti. E poi i colori sono belli perché è principalmente bianca. E il rosa, chiaro, rosa antico. Però ha questi due dettagli neri. E poi ha questi brillanti al centro. È proprio bellissima. Ed è abbastanza fine. Mi piace da impazzire questa qua. Questa è proprio bellina. Anche questa con un maglioncino bianco. È molto carina. Poi, un'altra che non mi piace particolarmente. Però dovete sapere che quando ho collaborato con un sito un po' di tempo fa, un'azienda mi aveva dato un budget piccolo. E quindi ho deciso di prendere più che una cosa travestiare o di schifo di prendere un po' di accessori con quel budget. Alcune cose mi sono piaciute molto lento. Ancora adesso. Altre mi hanno fatto un po' schifo. Non le ho mai messe. Però, alla fine, per due dollari. E questa, questa in realtà è carina. Però se fosse stata un po' meno brillantinata, forse sarebbe stata più portabile. perché effettivamente è un po' lampadariosa. Con questi triangoli, questi cinque triangoli. Tutti quanti sbrillini. Non è particolarmente trash. Anche perché, vedete, ha soltanto una bella luce. Però non è molto nel mio stile. Non so neanche perché ce l'ho. Però, ha un bel suono. Poi, tengo la più bella per ultima. Almeno la mia preferita. Abbiamo per penultima questa. Anche questa. C'è stato un periodo in cui la usavo veramente tanto. Ed è un collare sempre dorato. Vedete quanto si è ossidata questa? Proprio una ginesata. Però è bellissima. Questa è il Tapping Goddess. È metallo. Questa è bellissima, secondo me. Fa un effetto stupendo. Però non è particolarmente pregiato il materiale. Quindi, se vi piace questo stile di collana, io vi consiglierei di prenderne una di un materiale migliore. Perché, se no, si dovina troppo in fretta. Bellissima, bellissima. L'ultima. Questa, non ricordo se viene da H&M o da un sito cinese. Anche questa, purtroppo, si è un po' ossidata. Però questa, veramente, c'è stato un momento in cui l'andassavo tantissimo, più della catena di prima. E, secondo me, è bellissima. Questa sia un po' ossidata, ma non mi interessa. Mi piace sempre tanto. Ed è questa qua. Questa fa un po' egiziano, secondo me. Non lo so. Un po' greco, un po' egiziano. Mi piace da impazzire. Poi è fatta proprio bene. Fa proprio effetto collarino da Cleopatra. Non lo so perché, mi ha a pensare tantissimo. Ed è bellissima. Guardate quanto è fatta bene con questo strato di berline qui. E con queste sottospecie di gocce verticali. Non so, non sono molto brava io a descrivere le cose, ma è bellissima. Bellissima. Poi è tutta morbidina. Non so, questo mi piace un sacco, davvero. E sta bene con tutto, davvero. È bellissima. Va bene. Io vi ho morbato abbastanza con le mie collane. Fatemi sapere, prendiamola con la crema. Fatemi sapere cosa ne avete pensato di questo video. Io vi chiederei di lasciarmi nei commenti qualche suggerimento per dei video ASMR che vorresti vedere in futuro. Roleplay o qualsiasi tipo di video vogliate vedere. Che ovviamente non siano delle richieste troppo pretenziose perché non ho attrezzatura professionale. Detto questo, io spero che vi siate addormentati o comunque un po' rilassati. Vi mando un bacio gigante. E buonanotte. 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 Grazie.